Musica Aiutiamo Federico, un bimbo di 15 mesi affetto da una malattia molto grave che è l'asma di tipo 1, atrofia muscolare spinale diagnosticata all'età di 6 mesi. Federico ha bisogno di una cura americana molto costosa, parliamo di oltre 2 milioni di euro, un farmaco che migliorerebbe la qualità della sua vita. Tutta la sua famiglia, il papà Saverio e la mamma Rossella, entrambi tarantini, hanno avviato una raccolta fondi tramite il sito GoFundMe e tramite l'apertura di un conto corrente. Per Federico questa è una lotta non solo contro la sua malattia, ma una lotta anche contro il tempo. Il farmaco americano purtroppo può essere somministrato fino al compimento dei 24 mesi. Si tratta della forma più grave di questa malattia. I bimbi affetti non riescono a sedersi, a sollevare la testa senza l'ausilio di supporti medici, hanno difficoltà ad alimentarsi, respirare e deglutire. Fino a poco tempo fa, la maggior parte dei bambini affetti da questa malattia non riusciva a sopravvivere oltre i due anni. Aiutiamo tutti il piccolo Federico a raggiungere il suo obiettivo. Un piccolo gesto da parte nostra può essere un enorme contributo per lui e donare così al piccolo Federico un futuro migliore e pieno di vita. Ciao, sono Rossella, mamma di Federico, uno dei miei quattro figli, nati da un parto gemellare. Lui è Andrea, l'altro gemello. Da quando Federico aveva sei mesi, gli è stata diagnosticata una malattia rara, neurodegenerativa, l'atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più acuta che c'è. Ci siamo subito attivati nel portare Federico in un centro d'eccellenza qui in Italia che è il Pony Clinico di Roma a Gemelli, dove l'hanno preso subito in cura i migliori dottori del reparto. Da lì abbiamo iniziato una cura di un farmaco, anche questo molto costoso, però convenzionato. Si tratta di Spirazza. Questa cura ha iniziato a portare molti risultati. Diciamo che Federico non riusciva neanche ad alzare un braccio o di muovere una gamba. Movimenti fisiologici che un bambino a quell'età farebbe. Con questa cura che sta facendo ha iniziato a stare seduto anche da solo, a reggere meglio il capo, a tenere qualcosa in mano e a muovere un po' le gambine. Allora, questa è una malattia neurodegenerativa. Purtroppo questa malattia, andando avanti, blocca praticamente tutti gli arti del bambino. Gli arti motori, per parlare anche della deglutizione, della respirazione. Quindi è fondamentale una cura farmacologica per migliorare la qualità di vita del bambino. Per fortuna, da circa tre anni a questa parte, la scienza ha fatto molti passi in avanti parlando di questa malattia, partendo dal presupposto che tre anni fa non c'era assolutamente nulla per poter bloccare la progressione di questa malattia, ma soprattutto non riuscivano ad arrivare a un anno di vita questi bimbi. Questi anni, grazie agli studi e alle ricerche fatte, in America si è trovato un farmaco rivoluzionario, se non che miracoloso, che darebbe la proteina che a lui manca nel suo DNA. Questo farmaco si può acquistare solo privatamente al costo di 2 milioni e 100 mila euro. A tal proposito, abbiamo aperto una raccolta fondi con il fine di arrivare alla somma per acquistare il farmaco e per poter dare così una speranza in più per il piccolo Federico. Desidero ringraziare tutte le persone che in questi mesi ci sono state vicino. Desidero ringraziare chi lo sta aderendo alla raccolta fondi e chi lo farà anche per il futuro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!